Il teatro Astra torna nel discorso del sindaco Pavana per San Bastiano e c'è già chi parla di un'arresa del comune. Un operaio di Bassano è caduto dal tetto di un cappannone a Roncade, è gravissimo al caffoncello. Due dottoresse accusate di false vaccinazioni in una ventina di pazienti, indagini in corso. Nonna e nipote investite da un'auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali paura a San Vito. Oggi a Castelfranco i funerali di Maria Rossi Tassitani, mamma di Iole, brutalmente uccisa nel 2007. Il Veneto mette mano alla normativa e avvicina ancora più le sue eccellenze alla tavola. Un'onoreficenza ai comuni dell'Altopiano per ricordare e onorare il dramma dei profughi della Prima Guerra Mondiale. Provoca un incidente alla guida di un'auto senza avere la patente. Guai per un 24enne. Benvenuti ad una nuova edizione serale di Bassano Tg. Buonasera a tutti voi telespettatori. E ad un anno e mezzo dal crollo del tetto, il teatro Astra torna nel discorso del sindaco Pavan in occasione delle celebrazioni del San Bassiano. I toni però sono decisamente cambiati e c'è già chi parla di una resa del comune. Un anno e mezzo è passato dal crollo del tetto del teatro Astra. Dopo infinite annunci, prese di posizione, notizie trionfalistiche, il futuro dell'Astra è quanto mai misterioso. Di certo c'è solo che la struttura è stata messa in sicurezza, che lo spasciume all'interno e i seggiolini se ne sono andati e che i privati e l'amministrazione non si mettono d'accordo sul prezzo per trasformare l'Astra in un bene pubblico. Di meno certo c'è invece la valutazione che sarebbe stata data dell'immobile, ma di questo parleremo in un'altra occasione. Già, perché l'occasione ghiotta per parlare dell'Astra alla città era la cerimonia del santo patrono. Ed effettivamente il sindaco Elena Pavan ha parlato del teatro. Sentite cosa ha detto. So ad esempio che c'è grande attesa per il futuro del teatro Astra. Ma mentre per il Genius Center parliamo di un bene, di un'area in cui l'amministrazione comunale, infatti dovuti passaggi, può assumere decisioni in autonomia, l'Astra, come ben sappiamo, è di proprietà privata. Dobbiamo tenere quindi conto di tutte le esigenze e le aspettative per giungere ad una soluzione. Qualcuno può leggere in queste parole un invito ai privati a scendere a patti. Ecco però il seguito del discorso. Ci sono progetti che hanno bisogno di tempo per trovare compimento e a volte i percorsi possono subire dei rallentamenti. Questo non significa essere arrivati al termine della strada, ma lavorare con pazienza al raggiungimento dell'obiettivo. L'amministrazione sta facendo la sua parte. Siamo fiduciosi del fatto che le ragioni di ognuno troveranno sintesi in una visione più elevata che avremo insieme. Tutto chiaro? Bene, facciamo un passo indietro di un anno e mezzo. Poche ore dopo il crollo, il sindaco dichiarava Urbi e Torbi quanto segue. La soluzione è solo una all'acquisto del bene da parte dell'amministrazione allo scopo di restituirlo nel più breve tempo possibile alla città. E proseguiva. Nel caso non trovasse risposta nell'interesse della città che rappresento, mi riservo di esplorare qualunque altro percorso utile a mettere in sicurezza il bene a restituirlo ai bassanesi. Appunto, a restituirlo ai bassanesi. In un anno e mezzo siamo passati da esplorare qualsiasi percorso a essere fiduciosi che le ragioni di ognuno troveranno sintesi in una visione più elevata. E c'è chi vede in questo cambiamento una resa sul teatro Astra. Insomma, sul ponte vecchio, svento la bandiera bianca. Sul ponte svento la bandiera bianca. Sul ponte svento la bandiera bianca. E parliamo ora del convento dei frati Cappuccini di Bassano a rischio chiusura. Sulla questione interviene anche il Vescovo di Vicenza. Convento dei frati Cappuccini di Marnianna Bassano a rischio chiusura. Un punto di riferimento fondamentale per le tante persone bisognose che si affidano ai religiosi. Basti pensare che ogni giorno vengono serviti 70 pasti che permettono un sollievo a chi è in difficoltà. Partita la campagna per salvare il convento, ora anche il nuovo Vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, è disposto ad aprire un dialogo per salvare la presenza dei religiosi in città. Nei prossimi giorni, settimane, ci sarà un'interlocuzione per capire come, anche attraverso il contributo delle parrocchie qui nel territorio, si possa procedere nel mantenere un servizio. Penso che quella realtà positiva che è cresciuta e che è un punto di riferimento possa avere una certa continuità, probabilmente con delle forme un po' diverse, però auspichiamo che questo possa realizzarsi. A pesare, e molto, anche per la situazione dei frati e la mancanza di vocazioni, che vede presenti a Bassano religiosi sempre più anziani, con le evidenti difficoltà che possono incontrare. Per questo il Vescovo lancia un appello. Il mio appello è che se qualcuno ha un giovane, un ragazzo che è attratto da San Francesco lo promuova in un cammino vocazionale, così che abbiano anche forze nuove, forze giovani i frati e ci garantiscano questo tipo di presenze che da secoli sono state una grande risorsa e direi un grande dono. Due dottoresse di base accusate di false inoculazioni di vaccino ad una ventina di pazienti. Le indagini sono della Guardia di Finanza. La matematica non è mai un'opinione. Ne sanno qualcosa gli uomini della finanza che hanno effettuato, su richiesta della Procura, controlli a Bassano e a Romano Dezzelino, negli studi gestiti da due mediche di base di 57-48 anni, accusate di falso e truffa. Pare che le due siano responsabili di false inoculazioni di vaccini anti-Covid ad almeno una ventina di persone per avere il rilascio del Green Pass in modo fraudolento. A proposito dei numeri, dalle verifiche delle fiamme gialle, infatti le fiale di siero rilasciate alle due professioniste dall'Ulss non corrisponderebbero ai vaccinati nei due studi, un numero, quest'ultimo, nettamente superiore rispetto alla dotazione reale di vaccini. I fatti sarebbero riconducibili al periodo tra settembre e dicembre 2021, in piena pandemia. Gli inquirenti hanno sequestrato tutta la documentazione e i supporti informatici a disposizione delle due dottoresse e chiesto un riscontro all'Ulss del numero di sieri consegnati alle mediche per l'inoculazione. Non si esclude che verranno sentiti anche i pazienti coinvolti nella falsa vaccinazione che, se confermato il loro coinvolgimento, rischiano la denuncia. Ennesimo incidente sul lavoro questa mattina a Biancade. Un operaio è caduto dal tetto di un cappannone da 8 metri d'altezza. L'uomo è gravissimo, è il caffoncello. Nessuno ha voglia di parlare alla Sertec di Biancade. Lo shock per quanto accaduto questa mattina è ancora forte. È qui che intorno alle 11 si è verificato un incidente sul lavoro. Un operaio 43enne di Bassano del Grappa, dipendente di una ditta esterna di manutenzioni, stava effettuando un intervento sul tetto del cappannone dell'azienda specializzata in serigrafia quando, per cause che ora dovranno essere chiarite dai tecnici dello Spisa, la copertura avrebbe ceduto, facendo precipitare l'uomo per circa 8 metri. Immediatamente è stato dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM che, dopo aver stabilizzato l'operaio, lo hanno trasportato al caffoncello di Treviso. Significativa l'immagine che riporta la sindaca di Roncade, Pieranna Zottarelli, giunta sul posto poco più tardi. Si poteva intuire vedendo il foro sul muro e quindi sul muro del tetto e quindi si è visto chiaramente il volo che la persona ha fatto da un'altezza di 9 metri. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco, giunti con tre mezzi, tra cui l'autoscala, per mettere in sicurezza la copertura del magazzino. L'operaio nella caduta ha riportato un politrauma e si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva. La prognosi al momento resta riservata. Il mio auspicio è che la persona possa riprendersi, il lavoratore possa riprendersi completamente dall'infortunio, può dire quanto prima e senza postumi. Sconvolti, racconta la prima cittadina, anche i titolari e i dipendenti della Certec. Dipendente di un'altra impresa di manutenzione, al di là che non fosse un dipendente dell'impresa, al di là che non sia un concittadino, il dispiacere è ovviamente fortissimo. Quando ti trovi di fronte a queste situazioni non puoi che rimanere scioccato, traumatizzato. È qualcosa che non si vorrebbe mai. Non si vorrebbe mai nel mondo del lavoro, non si vorrebbe in nessun altro luogo. Ed oggi a Castelfranco i funerali di Marisa Rosso e Tassetani, mamma di Iole, ricordiamo brutalmente, uccisa nel 2007. La città si è stretta attorno alla famiglia. Una delle prime cose che mi hanno detto Luisa Rosamaria presentandomi la mamma sia stata, e cito le parole testuali di Luisa, proprio questa qui. Mi hanno detto, ciò che mi dà forza e pensare che lei ora torna ad abbracciare la sua amata Iole. Una celebrazione semplice, piena di amici e conoscenti, ma anche cittadini vicini al dolore che ancora una volta colpisce la famiglia di Marisa Rossi Tassetani, già devastata per la drammatica vicenda di Iole, rapita e poi brutalmente assassinata nel 2007 dal falegname di Bassano del Grappa Michele Fusaro. Una vicenda che aveva scosso l'intera comunità di Castelfranco e che oggi si è stretta intorno ai familiari vistosamente provati da questa nuova perdita. Marisa, una donna forte fino all'ultimo respiro, una donna coraggiosa, un vero pilastro per il marito Luigi, sia nel lavoro che nella vita, per tutta la famiglia anche nei momenti più bui, nei momenti più duri in questi ultimi 15 anni. Una donna riservata dai modi gentili e garbati, mai sopra le righe, molto conosciuta a Castelfranco perché attiva nello studio notarile del marito Luigi, con cui era sposata da 58 anni. Nell'ultimo periodo era stata più volte ricoverata all'ospedale di Castelfranco ed era stata dimessa da poco. Espirata a 79 anni, immersa nell'abbraccio affettuoso dei suoi cari che l'hanno accompagnata tutti insieme nel suo ultimo viaggio, stretti nel commovente abbraccio di una intera città che non li ha mai lasciati. Nonna e nipote investiti da un'auto mentre attraversavano le strisce pedonali, paura a San Vito. Si trova ricoverata al San Bassiano, una donna di 70 anni investita da un'auto mentre attraversava la strada assieme al nipote di 10 anni. È accaduto nel pomeriggio in via Passalacqua, all'attraversamento pedonale, all'intersezione con via Maello, in quartiere San Vito a Bassano. Nonna e ragazzino erano sulle strisce zebrate quando sono stati travolti da un'auto condotta da una 54enne residente in città. Fortunatamente il mezzo procedeva a bassa velocità. Ad avere la peggio l'anziana caduta a terra che ha riportato diverse botte, oltre a un grande spavento, illeso il nipote. Sul posto l'ambulanza del suo in 118 che ha preso in carico la settantenne e una pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso. Il Veneto mette mano alla normativa e si avvicina ancora di più alle sue eccellenze alla tavola, quindi l'apoteosi del chilometro zero. Lasciamo pure che l'Europa faccia le scelte fogli delle farine fatte con gli insetti. Noi preferiamo invece i prodotti del territorio e proprio per questo siamo andati a rivisitare la legge sul chilometro zero andando ad introdurre alcuni passaggi significativi. Il Veneto si avvicina ancora di più alle sue eccellenze e alla sua agricoltura con un aggiornamento della normativa regionale che valorizza le produzioni locali favorendone l'utilizzo nelle mense e nelle strutture legate ad appalti pubblici. Insomma, l'apoteosi del chilometro zero. Ecco a cosa mira questa taratura della legge regionale esistente. Incentivare l'uso di prodotti di chilometro zero all'interno delle mense, della ristorazione collettiva, ma soprattutto anche per la diffusione di prodotti a chilometro zero all'interno delle scuole e delle strutture sanitarie e sociosanitarie. Ed ecco come si concretizza l'obiettivo. Quindi andremo ad introdurre anche negli appalti e nei bandi pubblici per la ristorazione questi criteri importanti che vanno proprio nella direzione di aiutare gli agricoltori da una parte ma soprattutto di fornire ai nostri cittadini di prodotti di altissima qualità coltivati ovviamente in Veneto. E approvazione all'unanimità di questa legge che vede il plauso degli agricoltori e il presidente di Coldiretti Bassano dice un riconoscimento al nostro lavoro. Un centinaio di vacche da latte un lavoro senza sosta 365 giorni l'anno non si ferma mai la vita in una fattoria come questa di Bassano è il mondo dei produttori agricoli che plaude il prezioso riconoscimento dell'aggiornamento della legge su chilometro zero approvata all'unanimità del Consiglio regionale. Un percorso che è cominciato già da Parichiani quello di sensibilizzare il cittadino comune a consumare prodotto territoriale questo è senz'altro un aiuto riconoscere appunto all'agricoltore un ruolo centrale nell'economia soprattutto far rimanere anche i soldi e la ricchezza nel nostro territorio che poi va a vantaggio della collettività perché ricordiamo che l'agricoltore oltre la funzione primaria di produrre cibo è anche quella di mantenere pulito in ordine il nostro territorio il nostro ambiente. È un lavoro costante di difesa del suolo contro il rischio idrogeologico quello delle aziende agricole venete ancora più importante in un'area come quella collinare pedemontana dove sorge questa fattoria ma il valore complessivo dei prodotti a chilometro zero si sta consolidando nei cittadini consumatori. È un trend che si verifica già da parecchi anni quello di ricercare sempre di più il prodotto a chilometro zero e senza altro con questa legge insomma si va a fortificare questo andamento. Una tendenza cresciuta con i rincari e la corsa all'inflazione. Aver saltato vari passaggi della filiera questo ha avvicinato ancora di più il cittadino a trovare un prodotto di qualità ma allo stesso tempo ha un giusto valore e un giusto prezzo. E prende forma il progetto di un'onoreficenza ai comuni dell'Alto Piano per ricordare e onorare il dramma dei profughi della Prima Guerra. Sono passati più di cent'anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Tutto è cambiato da allora anche se come diceva qualcuno la guerra è una brutta bestia che gira il mondo e non si ferma mai. E proprio sull'Alto Piano dei Sette Comuni sono ancora ben visibili le impronte di quella bestia che a suo tempo ha lasciato su quel lembo di Veneto un grande vuoto. Quando il conflitto ha bussato alle porte dell'Alto Piano infatti la popolazione è stata sfollata e un fiume di profughi è sceso dalla montagna per conoscere il dolore e lo straticamento in pianura. Questo dramma è ancora vivo nella memoria delle generazioni che sono tornate dopo l'orrore della guerra grande a far vivere l'Alto Piano e le sue contrade. Per tanti anni questo dolore è rimasto per così dire privato nelle case e nei cuori dei figli e dei nipoti di quei profughi. Poi è successo qualcosa. Nel 2016 in occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Alto Piano l'allora Presidente dell'Unione Montana Emanuele Munari parlò con il Capo dello Stato di quanto era accaduto al popolo altopianese e nacque l'idea di un'onorificenza al valore civile proprio per ricordare quanto subito dalle genti dei sette comuni. Ora questa ipotesi è realtà e il percorso può iniziare con le delibere dei vari municipi favorevoli al conferimento dell'onorificenza. L'iter verrà presentato ai sindaci e ai cittadini domani alle 14.30 nella sede dell'Unione Montana dove Giancarlo Bortoli coordinatore del comitato scientifico che sta seguendo le varie fasi del percorso darà ufficialmente il via allo sprint finale. Un momento storico per l'Altopiano e per il Veneto che non hanno mai dimenticato. Ed è tutto pronto per il rinnovo del consiglio del quartiere centro storico a Bassano. I seggi saranno aperti domenica 22 gennaio alla chiesa di San Giovanni. Dopo la fumata nera dello scorso 6 novembre domenica prossima il 22 gennaio torna alle urne il quartiere del centro storico per il rinnovo del consiglio rionale. Un nucleo di persone attive presenti e attente che si fanno da tramite tra i residenti e il palazzo municipale. Un ruolo fondamentale per una città come Bassano del Grappa che conta ben 22 rioni ed è proprio il vice presidente del consiglio del centro storico Erio Piva che ricorda l'importanza di esprimere il proprio voto e l'importanza dei vari consigli dei quartieri cittadini. È importante perché più voti ci sono più peso abbiamo e più riusciremo a fare qualcosa di concreto insomma. Dopo non è che perché ha votato arrivi tutto ma comunque c'è qualcosa che gira che va i piani superiori possono votare i residenti del centro storico dai 16 anni in su dalle 8 alle 20 si possono esprimere sino a tre preferenze e il seggio sarà allestito alla chiesa di San Giovanni in piazza Libertà. E vediamo ora altre brevi notizie dal territorio. A Tiene sono stati denunciati due giovani per spaccio di stupefacenti. La polizia locale nord-est Vicentino ha sequestrato due panetti di Ascis per un peso complessivo di quasi un etto e denaro ritenuto provento di spaccio. 83.450 euro donati all'associazione oncologica San Bassiano Onlus con sede a Cassola grazie alle tante attività organizzate nel corso dell'anno dal maestro di tennis Marco Fioravanzo al motto fare del bene fa stare bene. La somma potenzierà i servizi offerti ai malatti di tumore seguiti dal centro. A Enego Eitra ha portato a termine i lavori dell'impianto di depurazione di fosse di sotto un intervento durato oltre un anno che ha avuto un costo di 810.000 euro e che va a rispondere alle esigenze di un'intera zona. Ha provocato un incidente alla guida di un'auto senza avere la patente nei guai un 24enne dell'Alta Padovana Alla guida di una Fiat Bravo senza patente questo hanno riscontrato gli agenti della polizia locale di Piazzola sul Brenta intervenuti a Tremignon a pochi chilometri da dove sabato ha perso la vita a Giorgio Grassetti il tabaccaio 77enne di Rubano Il 24enne alla guida del mezzo di famiglia si stava recando al lavoro percorrendo la strada provinciale con Tarina svoltando a destra per entrare nel parcheggio di un supermercato non ha visto arrivare un quarantenne del Burkina Faso residente a Campo San Martino in sella alla sua bicicletta L'uomo è stato investito dalla vettura sul posto subito intervenuti i soccorsi che hanno trasportato il ferito all'ospedale di Cittadella l'uomo se la caverà con una prognosi di 10 giorni illeso il 24enne risultato privo di permesso di guida mai conseguito per lui una multa salata di 5.000 euro e il fermo amministrativo di 3 mesi per l'autovettura il 24enne è stato ammonito a fare molta attenzione perché in caso di recidiva si andrebbe a configurare un reato penale Focus questa sera a partire dalle 21.15 ospiti saranno Marina Aliprandi Giulia Andrian Valentina Pillon Paolo Pizzolato Paola Roma e Massimo Venturato in chiusura di telegiornale come sempre diamo spazio alle previsioni del tempo di domani vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia buonasera